Solo 41 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, ma sono emersi dall'analisi di un basso numero di tamponi, 579. È risultato positivo dunque il 7,08% dei campioni analizzati, tre i decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così a quota 1.176. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al virus, ma aumentano i ricoveri che passano dai 479 di ieri ai 494 di oggi. Dei nuovi positivi il più giovane ha 3 anni, il più anziano 89. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono due, uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Teramo. I tre decessi riguardano persone di accompresa tra 87 e 90 anni. Uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 271 in meno e scendono a quota 11.545. 457 pazienti più 14 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 37 più uno in terapia intensiva, mentre gli altri 11.050 meno 287 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. I guariti sono 21.812 più 305. Dei 34.533 casi abruzzesi, 10.843 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 20 rispetto a ieri, 6.949 in provincia di Chieti, più 10, 7.027 in provincia di Pescara, più 6, 9.278 in provincia di Teramo, più 5, 281 fuori regione, numero invariato, mentre per 155 meno 4 sono in corso verifiche sulla provenienza.